Ciao a tutti ragazzi, qui potete ammirare il Celebi ottenuto tramite l'evento e le rispettive caratteristiche. Sono pronto a scambiarlo per qualsiasi Pokémon che possediate, quindi non esitate a contattarmi e ci metteremo d'accordo. La versione che uso è Earth Gold, quindi posso scambiare solamente con coloro che possedono un gioco di quarta generazione. Ciao a tutti!